Benissimo, possiamo iniziare. Buongiorno a tutte e a tutti. Io sono Duccio Facchini, direttore della rivista Altre Economia e con Luca Rondi abbiamo scritto questo libro che si intitola Respinti e che oggi pomeriggio presso la sala stampa della Camera dei Deputati ci aggiungiamo a presentare. Siamo in attesa che riesca a collegarsi anche l'On. Maggi, che ringraziamo per averci dato la possibilità di portare anche in questo luogo così simbolico i temi oggetto del libro, forse ce la facciamo. La presentazione si articolerà in questo modo, con... io farò una breve introduzione sul senso di questo libro e quindi sul significato e anche sull'urgenza di parlare ancora oggi delle sporche frontiere d'Europa dai Balcani al Mediterraneo, dell'esternalizzazione delle frontiere, del confinamento, dei respingimenti di quella che ci siamo spinti a definire una strategia precisa. Poi passeremo la parola a Luca Rondi, giornalista di Altre Economia, per approfondire il ruolo dell'Agenzia Frontex, che è un soggetto strategico all'interno di questa nera pagina dell'Unione Europea. Grazie. Dopodiché passeremo la parola a due dei... di coloro che hanno contribuito arricchendo, impreziosendo questa inchiesta, che sono Gianfranco Schiavone, presidente dell'ICS di Trieste, nonché socio dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, studioso di migrazioni, e a Cristina Molfetta della Fondazione Migrantes, che entrambi ringraziamo tantissimo. Ma volevo in questa sede ringraziare anche gli altri, coloro che hanno curato gli altri contributi all'interno di Respinti, e che sono le avvocate ASGI Caterina Bove e Anna Brambilla, l'avvocato sempre dell'ASGI Maurizio Veglio, Riccardo Gatti, marinaio, operatore umanitario oggi sulla Geobarenz di Medici Senza Frontiere, e che hanno contribuito davvero in maniera importante a arricchire l'analisi e l'inchiesta di Respinti. Questo è un po' lo schema della nostra presentazione. Ora io passerei la parola per aprire questi lavori, poi sappiamo che ha un impegno improrogabile alla Camera, a una Commissione, all'On. Maggi, che di nuovo ringrazio, e che rappresenta anche uno dei pochi punti di riferimento in Parlamento per quel che riguarda anche l'accessibilità alle informazioni, che è un'altra caratteristica dolente di questa strategia che si manifesta, sia che si tratti di frontiere interne al nostro Paese, sia che si tratti di frontiere dell'Unione Europea, sia che si tratti di frontiere esterne all'Unione Europea, quando si tratta di respingere, di maltrattare, di malmenare e di ributtare indietro le persone, assistiamo al paradosso di una strategia politicamente rivendicata, ma che poi quando si va a chiedere le carte, a chiedere le circolari, a chiedere le fonti di partenza, poi cade troppe volte una cortina di oscurità e di omertà. Quindi ringraziamo l'On. Maggi invece per condurre un'attività di sindacato parlamentare, lato nostro, giornalisti, per noi importante. Prego, On. Maggi. Grazie, grazie. Sono io che ringrazio voi, vi saluto e mi dispiace davvero non riuscire ad essere lì con voi per motivi di salute. Ci avrei tenuto molto perché ritengo che questo lavoro che oggi presentate, davvero faccio i miei complimenti a voi autori, a tutti i curatori e a tutti gli autori dei vari capitoli, sia uno strumento importantissimo per comprendere un dato che è allarmante, che va anche al di là poi dell'interesse che possono avere gli addetti ai lavori o gli studiosi, in particolare delle migrazioni, delle politiche migratorie. Ed è la questione di come si stia erodendo nel nostro continente, anche nel nostro paese poi in realtà, il diritto d'asilo. I vari capitoli ci mostrano come nei diversi quadranti del continente e con le opportune differenze che ci sono nelle varie frontiere, ci sia però questo elemento costante. L'erosione, il continuo attacco che avviene ormai da molti anni al diritto d'asilo, dobbiamo avere tutti molto chiaro che significa l'erosione di uno dei pilastri della civiltà giuridica europea. E purtroppo questo avviene invece con una sottovalutazione impressionante da parte del mondo politico istituzionale, sia nazionale sia comunitario. E questo ci preoccupa davvero tanto. Voi passate in rassegna in maniera molto puntuale, anche ovviamente con una documentazione minuziosa, come questo tipo di erosione stia avvenendo negli ultimi anni. E la cosa più allarmante, dobbiamo dircelo e sicuramente su questo interverrà, penso ad esempio Gianfranco Schiavone, ma anche altri, è il rischio che questa erosione sostanzialmente poi diventi, in qualche modo si formalizzi e diventi quasi istituzionalizzata. e laddove invece il diritto d'asilo dovrebbe dare luogo anche a degli obblighi da parte delle istituzioni nei confronti di chi chiede protezione, di chi scappa, di chi chiede appunto asilo, nei fatti vi sia sempre di più la tendenza a negare che questi obblighi debbano sussistere. Invece si trasformano questi obblighi in una specie di concessione di elargizione compassionevole quando va bene, oppure di negazione vera e propria. Questo tipo di allarme è quello che noi proviamo, noi che siamo un po' più attivi su questi temi, a trasmettere all'interno delle istituzioni e quindi questo è un volume che ci può aiutare anche in questo lavoro. Ultima cosa, poi vi lascio ai vostri lavori, alla vostra presentazione, perché non avete tantissimo tempo, avete un'ora scarsa a disposizione e i contenuti sono molti, l'ultima cosa è la speranza che la tragedia che si è abbattuta sull'Europa con l'invasione russa dell'Ucraina e alla quale l'Europa ha risposto con l'attivazione della direttiva 55 e ha risposto tempestivamente da questo punto di vista, questa tragedia che ha portato probabilmente all'attenzione di molte persone la questione del dramma, dei profughi, della tragedia degli sfollati, persone che magari prima non l'avevano presa in considerazione o non si erano sentiti toccati così da vicino quando questa tragedia aveva toccato altre popolazioni, ecco dico questo fatto storico, questa tragedia possa provocare una riconsiderazione dell'importanza e della centralità del diritto d'asilo e della attenzione da parte delle istituzioni nazionali ed europee verso questa questione e quindi possa riportare a riconsiderare anche alcune politiche, devo dire, sconsiderate che l'Unione Europea ha messo in atto e che stavano portandoci ad esempio anche alla stessa abrograzione, del stesso superamento della stessa direttiva 55. Quindi questo è un po' l'auspicio e l'auspicio che questo strumento che voi ci mettete a disposizione e che ripeto ho l'onore insomma di aver contribuito a portare anche all'interno della Camera dei Deputati oggi sia uno strumento che ci aiuti a sollevare ancora di più queste questioni. Vi ringrazio e vi seguo per un po'. Grazie davvero a non onorevole Riccardo Maggi anche per avere già delineato alcune linee, diciamo alcuni punti caratterizzanti del lavoro che abbiamo fatto dentro Respinti. Giustamente diceva Maggi non è e non voleva nemmeno esserlo un testo di analisi diciamo così delle politiche migratorie nel senso del governo del fenomeno dell'immigrazione, ma voleva essere e vuole rappresentare naturalmente nel nostro piccolo un contributo di inchiesta e di approfondimento di quella che è una strategia vera e propria per le assonanze, per le modalità operative comuni che si possono riscontrare frontiera per frontiera, di fatto una strategia che produce un'aggressione nei confronti del diritto d'asilo e che poi si traduce nel maltrattamento di decine di migliaia di persone alle frontiere dell'Unione. È una strategia che come raccontiamo nel libro naturalmente non nasce oggi, ma che si può collocare quantomeno nella sua tendenza ad aggravarsi negli ultimi dieci anni, negli ultimi dieci anni scarsi. Se andiamo indietro con la memoria, lo abbiamo fatto nel testo, uno snodo chiave è il 2015, poi arriveremo alla stretta attualità, però per comprendere come si è rafforzato anche il discorso della strategia dove ci siamo un po' raccontati come Unione Europea di essere stati oggetto di una, se ricordate le definizioni, crisi dei rifugiati. Quindi per orientarsi dal punto di vista anche delle immagini, quei tragici mesi in cui ad esempio persero la vita, anche io ripenso alla fotografia di Alan Kurdi, il bambino riverso sulla spiaggia. Ecco, da quel momento, giusto per ricordare qualche dato, perché giustamente Maggi parlava della crisi in Ucraina, quell'anno gli attraversamenti irregolari delle frontiere dell'Unione Europea, che è una definizione curiosa una volta che vengono negati i canali regolari, gli attraversamenti irregolari delle frontiere nell'Unione Europea nel 2015 furono poco meno di un milione e novecentomila e quella per noi fu storicamente la crisi dei rifugiati. Bene, oggi ai giorni nostri, dopo poco più di cento giorni di conflitto in Ucraina, le persone che hanno già abbandonato il paese e che solo quelle che hanno varcato il confine con la Polonia sono oltre tre milioni e settecentomila. Questo per comprendere come i numeri, come cerchiamo anche di raccontare nel libro, non sono un problema quando si vuole, talvolta invece il problema lo rappresentano. Bene, il risultato della strategia che si è articolata nella esternalizzazione delle frontiere, pagando chiunque dal peggiore autocrate in giù, penso al caso della Turchia, ma anche al caso della Libia, dove l'autocrate singolo e individuabile non c'è e allora si è deciso di procedere con un finanziamento a pioggia su soggetti più disparati e poi sappiamo come lo ha dimostrato il report delle Nazioni Unite, inchieste giornalistiche di osservatori indipendenti, trattasi di milizie diciamo così paramafiose che operano indisturbate sulla costa, sul territorio e in mare. Bene, esternalizzazione delle frontiere, confinamento delle persone e respingimento delle persone. Il prodotto di questa strategia lo abbiamo osservato, sempre riferendoci a dei numeri, osservando gli attraversamenti irregolari del 2021. Cioè che cosa ha prodotto in poco meno di otto anni questo tipo di orientamento e di scelte, ha prodotto 190 mila attraversamenti irregolari, sempre cosiddetti, in un anno, cioè il 10% del 2015. E uno potrebbe essere pensato a ritenere, e nel libro cerchiamo di smontarlo con i numeri, ma anche con le storie delle persone, che in questo lasso di tempo il bisogno di protezione a livello globale sia nel tempo diminuito. Uno dice diminuiscono gli attraversamenti perché fuori il mondo è andato paradossalmente migliorando, il paziente migliorava le proprie condizioni. In realtà, come ci racconta ogni anno la Fondazione Migrantes e i report internazionali, se noi osserviamo la linea dei migranti forzati e quindi rifugiati, richiedenti asilo, sfollati interni, bene, quella linea è passata da 40 milioni o poco più appena prima della crisi siriana, nell'anno del Covid a sfiorare quota 90 milioni di persone. Cioè, fuori dall'Europa il mondo è in fiamme, passatemi questa semplificazione, già prima della guerra in Ucraina, e invece la risposta dell'Unione è stata sempre più di chiusura e di allontanamento. E allora ecco perché abbiamo deciso di raccontare questa strategia, e specialmente i suoi attori e soprattutto i suoi attori economici, ci tengo a dirlo rappresentando una rivista che si chiama Altreconomia e mi riferisco in questo caso ad imprese talvolta italianissime che beneficiano delle forniture, motovedette, radar, apparecchiature radio, veicoli di terra, droni, tecnologie, analisi dei dati biometrici e così via, i soggetti che hanno implementato, beneficiato e tradotto in pratica questa strategia. E quindi ci siamo occupati della frontiera Polonia-Belorussia, ci siamo occupati delle rotte balcaniche, ci siamo occupati della rotta del Mediterraneo centrale e qui credo che sia simbolicamente importante ricordare il ruolo e la responsabilità che ha il nostro Paese ancora oggi nel delegare i respingimenti che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ci ha sanzionato per aver commesso direttamente e che oggi deleghiamo, non da oggi ma da anni, alle milizie libiche di qui sopra. Poi ci siamo occupati e non potevamo non farlo delle frontiere interne e quindi dalla frontiera tra Italia e Slovenia, grazie al contributo straordinario, come dicevo prima, delle avvocate Brambilla e Bove, della frontiera alpina a nord con la Francia, della frontiera sempre a ovest con la Francia di Ventimiglia, fino ad arrivare ai centri di permanenza per il rimpatrio che sono luoghi, diciamo così, intraducibili per citare l'avvocato Maurizio Veglio e che sono un po' usciti dalle cronache del nostro Paese che invece dovrebbero rientrarci, crediamo, per le condizioni di annullamento dei diritti delle persone. Poi abbiamo dedicato un capitolo specifico a Frontex di cui parlerà Luca Rondi, il coautore e abbiamo deciso di concludere simbolicamente il libro, prima delle conclusioni di Cristina Molfetta, con la situazione in Ucraina ed è un po' un andamento circolare perché siamo partiti invece dalla frontiera Polonia-Bielorussia e qui concludo perché in qualche modo la strategia di questi anni, noi scriviamo che i respinti sono un po' la cifra del nostro tempo, la strategia di questi anni ha dimostrato la sua ipocrisia, la sua violenza, il libro è ricco di storie ai noi brutali, di una brutalità che non è casuale, ma è una brutalità fisiologica della strategia, non è un qualcosa che accade per caso per la brutalità di una mela marcia, ma è una strategia precisa, quella di annullare le persone e anche da lì la scelta di utilizzare come copertina una splendida fotografia di Michele Lapini e di Valerio Muscella, di migranti in transito lungo le rotte balcaniche in Bosnia e d'Herzegovina che sembrano quasi sparire, quasi finire nella nebbia e che invece con il nostro lavoro cerchiamo di fare riemergere le persone. Bene dicevo, una strategia ipocrita, violenta, brutale fondata sul totale scostamento dai numeri e dalle fatti specie reali. Mi spiego, tra Polonia e Bielorussia per poco meno di 25 mila persone in condizioni disperate, iraniani, iracheni, camerunesi, della Repubblica Democratica del Congo, afghani, siriani, addirittura da Cuba, per 25 mila persone lo scorso anno e ancora oggi, come ci racconta Human Rights Watch in un recentissimo aggiornamento del report, l'Unione Europea grida all'attacco ibrido, grida all'aggressione e quindi giustificando cani, filo spinato, cannoni ad acqua, botte, respingimenti nelle paludi, nelle foreste, nei fiumi della Bielorussia da parte della Polonia per 25 mila persone e contestualmente pochi chilometri più a sud della frontiera tra Polonia e Bielorussia, considerate che si tratta di quasi 500 chilometri di frontiera, in parte dichiarata stato di emergenza per tenere fuori giornalisti, operatori legali, occhi, oltre che assistenza naturalmente, poco più a sud, abbiamo invece osservato e meno male la protezione temporanea garantita rigorosamente a Ucraine e Ucraini e non ad altri da parte dell'Unione Europea. Questo doppio registro intollerabile è sotto i nostri occhi e siamo convinti, abbiamo cercato di scriverlo nel libro, che si possa quasi parlare paradossalmente trarre una lezione positiva dai drammatici fatti ucraini, ripeto, nel renderci conto che la protezione si può quando si vuole garantire, poi naturalmente sospendendo il giudizio su una certa forma di protezione, penso soprattutto alle donne in Polonia. Ma questo è ecco lo spirito del lavoro che abbiamo condotto e che ripeto, senza i contributi di Gianfranco Schiavone, di Cristina Molfetta, di Maurizio Veglio, di Anna Brambila, di Caterina Bove, di Riccardo Gatti, non sarebbe naturalmente, non avrebbe potuto essere lo stesso. Ho cercato di riassumere in brevissimo i contenuti del nostro libro, ripeto, un libro svolto con gli strumenti del giornalismo d'inchiesta e quindi cercando il più possibile di recuperare anche quegli atti che i governi dell'Unione e le autorità dell'Unione hanno cercato il più possibile di negare. Mi riferisco in particolare, anche qui credo che sia importante per il luogo simbolico in cui siamo, ricordare ancora oggi che la circolare ministeriale a firma del allora capo di gabinetto del Ministero dell'Interno Matteo Piantedosi, oggi prefetto di Roma, che ha in qualche modo stimolato e riacceso e attivato le riammissioni informali attive tra Italia e Slovenia, quella circolare ha due anni ormai, ha più di due anni dalla sua emanazione e non è mai saltata fuori, almeno dal punto di vista pubblico, è stata negata ai giornalisti e è stata negata anche ai parlamentari e credo che sia una pagina poco felice per usare un eufemismo di questa strategia di respingimenti e che quindi respinge le persone, maltratta le persone e fa strame delle nostre Costituzioni e delle nostre Convenzioni. Ora terminato questo cappello introduttivo, mi scuso se sono stato un po' lungo, passo la parola a Luca Rondi che ci racconterà naturalmente il senso del libro e soprattutto il ruolo dell'agenzia Frontex che come raccontiamo svolge una parte fondamentale in questo triste spartito. Grazie Duccio, mi associo ai ringraziamenti all'onorevole Maggi per l'invito. Perché parlare di Frontex? Perché in qualche modo nel libro noi proviamo a raccontare come la gestione del fenomeno migratorio si ispiri appunto ai principi del confinamento, del respingimento, della mancata protezione alle persone che tentano di raggiungere il territorio dell'Unione Europea e analizzare l'operato di Frontex che è l'agenzia europea chiamata a sorvegliare le frontiere esterne europee, aiuta a comprendere come quello che succede sui singoli confini in qualche modo risponda a una precisa volontà istituzionale appoggiata dalle istituzioni europee. E quindi Frontex diventa in qualche modo il braccio operativo di quella strategia che noi ricostruiamo sulle diverse frontiere europee. C'è un dato sicuramente economico che dimostra la centralità dell'agenzia nell'operato dell'Unione Europea. Se nel 2005 Frontex contava 45 dipendenti di 6 milioni di euro oggi va da un portafoglio di 754 milioni di euro. La sua crescita non è in qualche modo terminata, entro il 2027 ulteriori 5 miliardi verranno investiti sull'attività dell'agenzia e a questo aumento del portafoglio e quindi delle possibilità ovviamente di spiegare agenti sul campo, droni, macchine per pattugliare i confini, si associa anche una modifica del regolamento che è datata a dicembre 2019 e che amplia i poteri degli agenti sul campo. Frontex come sapete oggi è in qualche modo sotto discussione, l'operato di Frontex è sotto discussione perché un mese e mezzo fa il direttore Leggeri si è dimesso. Si è dimesso a seguito di diverse accuse, diverse indagini che hanno svelato la complicità di Frontex in particolare nelle operazioni di respingimento dalla Grecia verso la Turchia. Un team di giornalisti cappeggiati dal quotidiano Der Spiegel ha dimostrato come l'agenzia fosse a conoscenza dei respingimenti violenti che si verificavano nelle acque territoriali greche. Le persone venivano caricate dalla Guardia Costiera greca sulla nave militare, venivano identificate, ricollocate sulla barca con cui stavano cercando di raggiungere le isole greche e poi respinte verso la Turchia. Si parla di migliaia di casi di cui l'agenzia era a conoscenza e rispetto a cui in qualche modo non ha denunciato l'illegittimità delle pratiche. Oggi il nuovo capo ad Iterim ha nuovamente sottolineato come la presenza di Frontex possa garantire un maggiore rispetto dei diritti umani sulle frontiere. Ma se noi guardiamo indietro e riavvolgiamo il nastro ci accorgiamo che la stessa giustificazione in qualche modo fu addetta anche nel 2018. Siamo sul confine tra Ungheria e Serbia e Frontex viene in qualche modo accusata anche dall'UniHCR di in qualche modo collaborare con i respingimenti violenti che dall'Ungheria riportavano le persone verso la Serbia. Collaborare in maniera indiretta ovviamente. Cosa succedeva? La polizia di frontiera ungherese offriva due possibilità alle persone respinte. O ritornare in Serbia oppure coattivamente salire su un aereo di Frontex per irrisci. Si parla di circa 40 casi tra l'altro di cittadini afghani che in quel periodo come oggi nel nostro paese avevano una percentuale del riconoscimento della protezione internazionale superiore al 90%, quindi di persone che avevano il diritto di stare nell'Unione Europea e in qualche modo Frontex con la sua attività di espulsione, di rimpatrio collaborava di fatto ai respingimenti dall'Ungheria verso la Serbia. Frontex nel gennaio 2021, solo tre anni dopo, ha ritirato i suoi agenti dal paese ungherese a seguito della doppia condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulle pratiche di respingimento ungherese. Questo ci dovrebbe far riflettere perché oggi Frontex è ancora attiva in Grecia, nonostante proprio ieri il relatore speciale della Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti Felipe Morales evidenziava come sono stati registrati più di 540 operazioni di respingimento illegittimo dalla Grecia verso la Turchia con circa 17.000 persone coinvolte e sottolineava come di fatto il respingimento diventa uno strumento di gestione della frontiera, non è più un evento isolato. Ovviamente la presenza di Frontex su quei confini, Frontex pattuglia via terra, il confine di terra tra Grecia e Turchia è in qualche modo problematica perché di fatto è il braccio dell'Unione Europea che dovrebbe garantire rispetto dei diritti umani e in qualche modo diventa connivente e collabora nelle operazioni di respingimento. Concludo, il nuovo leggeri si è dimesso e la nuova tappa di interim Calanja ha dichiarato che è necessario un cambio di cultura e ha sottolineato che il cambio di cultura non può essere solamente di Frontex, ha dichiarato che è necessario un cambio di cultura di tutta l'Unione Europea come a dire il nostro mandato è chiaro che se deve rispondere a una politica che come raccontiamo nel libro si ispira diciamo alle modalità del respingimento e del confinamento è problematico che le nostre operazioni non diventino in qualche modo direttamente coinvolte in violazioni dei diritti umani. Do solo un dato perché l'agenzia in qualche modo anche attraverso la crisi ucraina a seguito dell'aggressione della Russia anche sui suoi profili social sta cercando di recuperare in qualche modo l'immagine sul suo sito ieri scriveva di facilitare l'ingresso alle persone ucraine e nel frattempo su un isolotto del fiume Evros tra Turchia e Grecia ci sono 28 persone che sono rimaste ferme 10 giorni perché non gli veniva garantito l'accesso al territorio greco bambini, donne provenienti dalla Siria Frontex lo sapeva ma in quel caso evidentemente non ha facilitato e non ha fatto pressione sul governo greco per farle entrare. Non solo un dato, dei 754 milioni di euro di cui vi ho parlato del budget del 2022 lo 0,3% è destinato a tutte le attività concernenti il monitoraggio del rispetto dei diritti umani quindi sicuramente serve una Frontex diversa e oggi bisogna pretendere a livello istituzionale però che sia una Frontex realmente diversa e che possa in qualche modo anche operativamente essere l'agenzia che facilita il rispetto dei diritti umani i dati, le operazioni, i report, le denunce di giornalisti o NG indipendenti oggi ci dicono che forse siamo lontani da quel tipo di intervento e da una presenza che possa davvero migliorare il rispetto dei diritti delle persone che tentano di raggiungere l'Unione Europea Grazie a Luca Rondi per questo affondo su Frontex aggiornato nel libro abbiamo ritenuto importante dare una centralità seppur una centralità davvero negativa e vergognosa per quel che riguarda l'agenzia Frontex diceva bene Luca dell'area di Grecia e Turchia dove abbiamo visto il volto più feroce dell'agenzia e di questo stridore con invece la frontiera polacca e bielorussa è importante, lo facciamo nel libro, anche ricostruire il ruolo di Frontex per quel che riguarda il Mediterraneo centrale in giorni in cui continuano i drammatici naufragi o dall'altra parte osserviamo ancora ostacoli frapposti all'operato delle organizzazioni non governative dopo la stagione della diffamazione delle inchieste penali finiti in nulla ora osserviamo i ritardi nell'assegnazione dei porti o procedimenti amministrativi finalizzati a ritardarne l'operato ecco anche lì, anche in quell'enorme frontiera, in quell'enorme tratto di mare l'agenzia Frontex è operativa con assetti aerei e talvolta anche con droni e insomma nel libro ci occupiamo anche di questo aspetto sottolineando questa strategia di rimozione degli assetti navali finalizzati al soccorso dopo la breve parentesi di Mare Nostrum nel 14 e il dispiegarsi di un grande velo nero dove operano le milizie libiche e dove chi si azzarda a raccontare le modalità operative di questa strategia è condannato a appunto una serie di ostacoli senza soluzione di continuità e dunque a questo punto io chiedo a Gianfranco Schiavone di raggiungerci al banco dei relatori e lo ringrazio nuovamente Gianfranco Schiavone dell'ICS di Trieste e di Asgi ha curato l'introduzione di respinti soffermandosi su questa triste parabola del diritto d'asilo da appunto da diritto fondamentale scolpito anche nella nostra Costituzione a concessione chiedo magari a Gianfranco di accompagnarci dentro questo tema, grazie Sì grazie Duccio e grazie a tutti voi che siete qui la presentazione di questo libro anche in questo luogo è molto importante molto importante perché come ha già detto Duccio Facchini non presentiamo un rapporto qualsiasi presentiamo un rapporto che in maniera divulgativa ma con un linguaggio scientifico rigoroso ci ricorda che siamo in un momento molto grave della storia dell'Unione Europea è un momento molto grave perché i restringimenti di cui stiamo parlando non sono, lo abbiamo già detto ma io lo ripetisco, episodi diciamo così sgradevoli ma episodici, non sono situazioni che si possono verificare talvolta o che si verificano neppure più frequentemente di prima sono purtroppo episodi che ormai oggi dobbiamo definire sistematici è frutto di un'impostazione sbagliata, frutto di una politica assolutamente che ha preso una deriva verso la solidarietà e verso appunto la violazione di quegli stessi principi che continuiamo a difendere dalla carta ma che oggi violiamo, ripeto, attraverso un'organizzazione pianificata nella realtà questa sia appunto le frontiere esterne dell'Unione Europea via mare e via terra sia attraverso quelle forme di sostegno a paesi terzi che variamente chiamiamo esternalizzazione delle frontiere e delle procedure che sono delle forme non per aiutare paesi terzi a gestire agli arrivi dei rifugiati, dei migranti forzati nel loro territorio ma sono di fatto delle modalità per aiutare questi paesi ad ostacolare l'arrivo e il transito dei rifugiati verso l'Unione Europea quindi i dati dei respingimenti si inseriscono dentro una strategia più generale che comincia molto prima del respingimento anzi, verrebbe da dire che il respingimento per quanto sistematico è alla fine l'ultima cosa che si cerca di fare quando tutte le altre sono state sostanzialmente magari eventualmente non sono riuscite e quindi è giusto, questo libro ricorda che siamo dentro questo quadro completamente alterato completamente alterato perché il diritto d'asilo è nella sua sostanza un diritto di accesso se non c'è l'accesso non ci può essere un diritto d'asilo ed è tutto evidente ed è e fa bene direi anche il commissariato quest'anno lo dico perché fra pochi giorni ricorre appunto il la giornata mondiale dei rifugiati a mettere l'accento sul sul fatto che il problema fondamentale nel mondo oggi è il diritto di accesso cioè il diritto di chiederlo di poter entrare per esercitare questo diritto che si tratti di e questa negazione avviene appunto prima ancora che le persone avvengono cercando di non farli arrivare alle frontiere con i respingimenti e addirittura si sta facendo una terza uno terzo scenario inquietante lo dico apposta oggi perché è annunciata diciamo la decisione sulla sull'appello contro il respingimento anzi la deportazione dovremmo chiamare dei pro di richiedenti asilo a cui viene negato di diventare tali sul suolo inglese da parte appunto oggi avrebbe dovuto essere effettuato e al momento non è stato effettuato questo volo diciamolo di rimpatrio dalla dalla Gran Bretagna al a Rwanda un caso sconcertante devo dire non abbiamo tempo di fermarci su questa vicenda che meriterebbe di per sé un incontro caso sconcertante di violazione dei diritti della del diritto d'asilo da parte di un paese che non è più membro dell'unione europea ma è comunque obbligato alla come appunto è vincolato rispetto della convenzione ginevra e della convenzione europea sui diritti dell'uomo e che pretende di impedire no appunto che le persone che intendono arrivare in Gran Bretagna o che sono già arrivate anzi perché le persone vengono appunto portate dalla Gran Bretagna verso il Rwanda e pretende di poter impedire e di esercitare il diritto d'asilo in Gran Bretagna perché la domanda di asilo verrebbe rifiutata in quanto tale e la persona la deve esercitare dall'altra parte del mondo sembra di tornare a situazioni degli anni 30 per molti aspetti guardate non voglio fare paragoni impropri ma siamo in un momento veramente storico inquietante nel quale purtroppo lo devo dire anche in questa sede la politica non sembra accorgersi diciamo della gravità degli eventi occupata delle piccole beghe di tutti i giorni nelle piccole polemiche nei voti diciamo per questo per quell'altra misura come dire è come se la storia gli scorresse accanto e non se ne accorge e quella italiana probabilmente più degli altri e per questo motivo torniamo ripeto in questo in questo libro appunto a parlare di come ripristinare appunto una legalità innanzitutto una legalità che viene violata in maniera ripeto appunto sistematica e dalla quale per il momento sembra che non vogliamo uscire perché le proposte dell'unione della commissione europea in questi questi mesi direi da quantomeno dalla famosa proposta del patto no sull'immigrazione e l'asilo quindi dal settembre ormai di due anni fa ad oggi il sono proposte che vanno tutte nella direzione completamente sbagliata ma non nel senso sbagliata della chiusura perché poi nel contesto politico esistono le aperture le chiusure e dipendono le maggioranze e le minoranze quindi non non è di questo che mi che che mi stupisco cioè non mi stupisco del fatto che sicuramente non viviamo in un periodo di grande progresso dei diritti dei diritti umani parlo di qualcosa di molto più radicale cioè del tentativo appunto di svuotare dall'interno quel il questi diritti fondamentali e sostituirli con una forma di legalità illegale sostanzialmente o di legalità o di nuova legalità o di paralegalità che però è totalmente incompatibile con il trattato sul funzionamento dell'unione europea con la convenzione appunto europea sui diritti umani con l'attuale sistema appunto di ehm di tutela del diritto del diritto d'asilo nell'unione dell'unione europea ci sono veramente delle proposte dell'unione europea che non sono accettabili parliamo della questione della revisione dell'accordo di Schengen per ripristinare delle forme mascherate ma evidenti di frontiere interne selettive solo per i migranti la proposta sulla cosiddetta strumentalizzazione delle domande d'asilo che invece di che trasforma le vittime in nemici invece di il appunto di tutelare ancora di più le persone che che esistono a mio riso esistono che sono strumentalizzate da paesi terzi sicuramente e il e che cercano di arrivare nell'unione europea sono proposte che ci portano come è stato detto anche in introduzione da dall'onorevole Maggi verso un una un e qua vado a a chiudere come perché questo è anche il tema che cerco di trattare nel nel libro verso un degrado del diritto d'asilo come diritto universale della persona una una delle conquiste fondamentali che abbiamo avuto nella della civiltà europea dopo la seconda guerra mondiale quindi dopo le tragedie no che abbiamo ben conosciuto e un uno sviluppo di questo diritto da diritto della persona in quanto tale che deve che va rispettata al diritto che va rispettato per indipendentemente dalla sua appartenenza ovviamente etnica religiosa politica o di qualsiasi altra natura verso progressivamente la possibilità che questo diritto appunto alla protezione venga concesso venga concesso a un gruppo sì a un gruppo no a una persona sì a un'altra no ma non come diciamo in qualche modo tendenza appunto alla chiusura ma ma proprio come tendenza aperta infatti ciò che ciò che colpisce eh in nel in questo periodo che stiamo vivendo è che eh questa disparità di trattamento che è che è arrivata diciamo a livelli veramente inauditi no eh al confine ehm polacco in parte ma non solo eh e il e in molte altre 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 situazioni è palese è aperta non è nascosta cioè non non abbiamo dei dubbi sul fatto che 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 ciò sta avvenendo nessuno ha dei dubbi non stiamo parlando di di episodi sotterranei malcelati eh che vanno disvelati in qualche modo spesso le inchieste forse la forse addirittura siamo oltre il concetto di inchiesta non c'è niente da indagare perché è tutto è tutto evidente eh e tutto ma si manifesta stesso intervengono sentenze difficili perché chiaramente le persone di cui parliamo sono persone che vengono vengono viene tolto ogni diritto compreso quello di ricorrere perché non abbiamo provvedimenti sono persone che condizioni di vita disperate eccetera ebbene anche quando abbiamo dei provvedimenti penso a ci sono stati moltissimi provvedimenti in questi in di tribunali nonostante la difficoltà in italia in austria in 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 grecia in in croazia e recentemente la voglio citare anche una sentenza polacca siamo contro i respingimenti appunto alla frontiera che cosa succede niente questo niente quindi è come se tu no in questa evidente violazione e il quando viene riconosciuta non per la non perché abbiamo avuto difficoltà giuridica chiaramente a riconoscere ma ma si arriva appunto a un riconoscimento di questa violazione comunque non accade niente ecco non si può essere se questo è il quadro e secondo me il vero problema è è lo stato di diritto in quanto tale prima ancora che la tutela dei rifugiati e di questo penso che parla questo libro in maniera preziosa e adeguata grazie a gianfranco schiavone e peraltro è proprio diciamo così anche un po per resistere a questo niente che accade che eh nel 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 ruolo di piccolo editore indipendente come altra economia abbiamo deciso di di credere e di eh realizzare questo questo libro riprendendo un po il nostro eh motto eh dell'informazione per agire cioè anche eh tenendo ben fermi i ruoli e e i i compiti però insomma eh cercare di informare per modificare la la situazione eh che ormai ci trasciniamo dietro da anni e in questo solco mi piace ora dare la parola a Cristina Molfetta eh della fondazione Migrantes cui si deve eh tra le altre cose eh il rapporto annuale eh sul sul diritto d'asilo che rappresenta eh un patrimonio eh di contributi di idee di pensiero e anche di dati eh perché c'è una eh specialmente nell'ultima edizione ancora eh davvero sono dati eh che permettono anche agli operatori dell'informazione dovrebbero e e e e molti più numerosi tra i nostri colleghi dovrebbero rifarsi anche a queste a questo lavoro di sistematizzazione e di riproposizione di numeri davvero importantissimi perché poi è vero che i dati talvolta eh cancellano le storie ma senza i dati eh si va a sbattere come dire contro i pali e mh e invece mi riferisco ad esempio ai dati che hanno eh riepilogato i respinti o ritornati nel linguaggio orwelliano dell'organizzazione internazionale delle migrazioni i respinti in Libia dal 2016 al 2021 che ci portiamo anche questo triste risultato di aver superato quota centomila in cinque anni grazie in particolare alle forniture italiane magari attraverso fondi destinati alla cooperazione internazionale. Cristina Molfetta dentro questo libro eh ha scritto la conclusione e che abbiamo per la sua forza voluto anche mettere nella seconda diciamo di copertina nella letta di questo libro eh che pone delle domande eh così eh semplici ma così eh urgenti e così drammaticamente come dire contraddette eh rispetto alla condizione di eguaglianza delle persone che rappresenta davvero una un contributo eh di cui siamo molto felici e eh non smetteremo di ringraziarla. Passerei ti passo la parola Cristina chiedendo appunto di raccontarci questa anche questo doppio registro che ormai osserviamo alla frontiera con l'Ucraina ma non solo. Prego. Non mi insomma mi unisco ai ringraziamenti di tutti sia per l'opportunità, la sede, le persone che sono qua presenti e sì direi che riprendo come dire come se si chiudesse il cerchio nella presentazione che aveva fatto l'onorevole Maggi. Ritorniamo un po' alla crisi attuale dell'Ucraina e lui forse era più ottimista di me pensando che questa crisi possa essere l'occasione proprio perché in realtà rispetto a questi numeri in qualche modo l'Unione Europea e diversi paesi anche quelli che hanno attuato come noi tutte le strategie possibili per mantenere fuori il numero più elevato di persone in qualche modo stiano dimostrando il volto accogliente non respingente. E proprio questo doppio binario in realtà a me suscita molte domande e mi fa intravedere più dei pericoli che delle opportunità e quindi spero di sbagliare però eh adesso condivido con voi quelli che sono i dubbi e le perplessità che invece a me questo doppio resistro fa suscitare. Cioè è indubbio che con una mano eh abbiamo aperto tutta una serie di frontiere che fino all'altro ieri erano chiuse e in realtà su cui attuiamo e continuiamo ad attuare per tutti quelli che non sono ucraini delle politiche di rispingimento. Quindi la prima domanda è non è che perché adesso le abbiamo aperte per gli ucraini sono aperte anche per gli altri, continuano ad avere come una bella situazione di apartheid, sono aperte per gli ucraini ma sono chiusa a doppia mandata per gli altri che continuano ad essere respinti tutti i giorni dall'Italia e tutti i giorni come dire dalla Polonia, dall'Ungheria e da tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. Così come altri paesi dell'Unione Europea continuano ad attuare queste politiche di tenere le persone dentro dei campi, quindi delle politiche come dire anche di contenimento interno e eh così come in realtà non solo in questo doppio registro delle frontiere ma anche una volta che le persone sono entrate il nostro paese da un bellissimo esempio, lo dico in negativo, di questo doppio registro a tutti i livelli per cui l'accesso alle questure non solo uno avrà il permesso temporaneo e l'altro dovrà fare domanda d'asilo e uno dice vabbè la normativa prevede questo. Io invito chiunque non l'abbia fatto a uscire da un ufficio delle questure italiane in questi giorni e vedere che il poliziotto esce e chiede sei ucraino allora prego puoi entrare, starai nella sala d'attesa per la protezione temporanea, sei di una qualunque altra nazionalità, puoi continuare a fare la fila fuori dalle tre, quattro, cinque di mattina sotto il sole coccente, la pioggia e va bene così. E sono tutti entrambi richiedenti asilo, sono persone che stanno scappando dalla guerra, che hanno perso una casa, che hanno perso dei familiari e per cui noi continuiamo ad attuare altro che un doppio registro. Così come a me preoccupa gravissimamente una forma di etnicizzazione dell'accoglienza, per cui l'abbiamo già intravista, poi in realtà non era quasi entrata in pratica perché siamo stati così lenti nell'attuarla che praticamente non è servita, per le persone che abbiamo fatto uscire con estremo ritardo, il nostro esercito se ne è andato a giugno dell'anno e abbiamo fatto uscire ad agosto solo quando se ne è andato via anche l'esercito americano di chi aveva collaborato con noi per più di vent'anni, quando sono arrivate abbiamo fatto un primo decreto in assoluto che è quasi passato sotto silenzio di creare dei posti solo per gli afghani, che poveretti non li hanno neanche utilizzati perché come dire ora che li abbiamo creati erano passati sei mesi, erano finiti tutti nei centri d'accoglienza straordinaria. Bene, quei posti che avevamo creato solo per gli afghani abbiamo detto beh adesso li possiamo usare per gli ucraini, per cui poi abbiamo fatto altri posti solo per gli ucraini. Gravissimo, cioè veramente sembra di stare in una situazione di apartheid, cosa vuol dire? Che se arriva una persona che ha bisogno di altrettanta, certo già li abbiamo reso difficili arrivare, ma se arriva non avrà dei posti in accoglienza perché non è ucraino? Che tipo di paese è quello che sta come dire creando delle situazioni ad hoc rispetto alla nazionalità? Altro che come dire concessione, siamo all'etnicizzazione di quello che dovrebbe essere un diritto. Quindi le preoccupazioni sono tante e adesso come dire vorrei elencare anche altre cose positive che stiamo facendo per gli ucraini e che per chi come me e come voi qua da tanti anni sta facendo delle battaglie per il diritto d'asilo non può che salutare con gioia perché rappresentano quello che andrebbe fatto per tutti, ma il sospetto è che in realtà si stiano facendo per gli ucraini e non è così scontato che vengano estese, come dire, alle altre persone come sarebbe giusto. Quindi gli ucraini non solo hanno la protezione temporanea subito, ma potranno da subito ricercare un lavoro e quelli che hanno una professionalità legata al mondo della sanità potranno lavorare negli ospedali e nelle RSA, ma abbiamo furfeo di medici e infermieri che arrivano anche dalle altre parti del mondo e saranno invece condannati a una delle legislazioni peggiori che abbiamo sul riconoscimento dei titoli di studio e le capacità e come minimo impiegheranno una sofferenza di 6 o 10 anni per vedere riconoscere quel titolo di studio che per gli altri vale dal dopodomani. Gli ucraini potranno, giustissimo, io spero che presto anche gli altri, se sono ricercatori e insegnanti universitari, provare un posto nelle nostre università che si sta adoperando per trovare dei fondi. Ma anche qui abbiamo un fior fior di ricercatori e di professori universitari di altre parti del mondo a cui questa possibilità non gliel'abbiamo mai data. I bambini ucraini, questo dice la legge, non solo i bambini ucraini, ma tutti devono poter andare a scuola dal giorno dopo che sono arrivati, ma chi si occupa dei richiedenti asilo sa che scrivere un bambino in corso d'anno in una scuola italiana spesso significa dover aspettare dei mesi. Tutti i bambini inseriti nella scuola, i bambini sono tutti uguali, al di là di essere richiedenti asilo e rifugiati, dovrebbero avere la fondazione linguistica. Non ci sono mai i fondi, ma per i bambini ucraini invece i fondi sono stati trovati. Bene, tutta questa moltiplicità di registro che fa sì che per gli ucraini si sta facendo quello che in realtà bisognerebbe fare rispetto al garantire i diritti dei bambini e dei richiedenti asilo e dei rifugiati sta diventando un'intollerabile discriminazione nei confronti di tutti gli altri. Allora questa intollerabile discriminazione che veramente chi grida vendetta, io spero che presto saneremo questa intollerabile discriminazione e stenderemo alle altre persone che arrivano da altrettanto contesti faticosi le stesse opportunità che stiamo immaginando per chi giustamente scappa dal conflitto ucraino. Per non dire che mi auguro che veramente presto cominciamo a togliere queste aberranti politiche di respingimento e di violazione dei diritti delle persone, forse ecco l'unica nota positiva avendo preso confidenza che non è l'ingresso di poche migliaia di persone in un continente che ha quasi 500 milioni di abitanti che cambierà le nostre sorti e che in realtà se fossimo in grado di valorizzare le capacità e le competenze delle persone che arrivano, forse finalmente saremmo in grado anche di valorizzare le capacità e le competenze di ogni singolo paese che compone questo continente. Grazie davvero a Cristina Molfetta e a questo proposito ricordo che fatto dal report della fondazione, l'abbiamo riportato anche in respinti, un'altra delle disperanti diapositive di questo mancato accesso alla protezione da parte dei paesi ricchi e quindi dall'Unione Europea, Canada e Stati Uniti e dal Canada è fotografata anche, restituita anche dalla situazione dei reinsediamenti, quindi grandi e propagandate braccia aperte nei confronti delle cittadine ucraine e ucraine a fronte magari come nel 2020 di un milione e quattrocentomila persone che andavano reinsediate nei campi profughi di tutto il pianeta e della risposta da parte dei paesi come Unione Europea, Canada e Stati Uniti di nemmeno 35 mila reinsediamenti effettuati, quindi con una distanza davvero profondissima che poi si traduce e mi piace ricordarlo pensando al viaggio che abbiamo condotto con Cristina, con Manuela Valsecchi e con altri della fondazione Migrantes Don Gianni De Robertis in Niger nel 2021 quando al campo dei calaie, dimensati da tre quattro anni abbiamo incontrato persone evacuate dalla Libia e che si sono viste restituire come risposta da parte dei paesi come ci piace sottolineare culla delle civiltà, culla della democrazia, delle costituzioni, degli ordinamenti, un sostanziale silenzio e una sostanziale mancata risposta e quindi credo che sia davvero importante questa sottolineatura. Ora sono le 14.54, alle 3 qui dobbiamo terminare, abbiamo ben 6 minuti, se vi sono domande, osservazioni, richieste siamo a disposizione, anche Gianfranco, altrimenti… No, io ho visto un cenno… Luca se vuoi… Grazie. Grazie. Una piccola domanda in relazione al ruolo di Frontex nel Mediterraneo centrale e alle inchieste in atto rispetto all'utilizzo di assetti aerei e droni e il sostegno alla Guardia Costiera Libica nella segnalazione di eventi, che è un tema estremamente interessante e quindi vorrei sapere se ci sono dei casi specifici che avete seguito, dei respingimenti specifici che hanno dimostrato questo genere di strategia e se insomma se li avete seguiti che un po' di informazioni in più rispetto a questo. Grazie. Allora, rapidissimo, questa domanda e la ringrazio ci permette anche di dire che, contrariamente magari un po' allo sport del giornalismo italiano, non rivendichiamo nessuna esclusiva e quindi riconosciamo un lavoro straordinario condotto anche da parte di colleghe e colleghi che hanno raccontato e quindi nel libro talvolta anche riportiamo giornalisti italiani, giornalisti non italiani, questo accertato rapporto di connivenza e di collaborazione tra Frontex e le guardie costiere libiche cosiddette, siano esse dell'acronimo GAX o siano queste dell'altro corpo sottoposto diverso ministero all'interno delle istituzioni libiche. Lavori che è stato possibile svolgere specialmente grazie all'opera di testimonianza e di controllo che hanno svolto le organizzazioni non governative, cioè noi possiamo oggi ricostruire il ruolo di Frontex e il suo ruolo di tramite e di indicatore con le milizie libiche anche grazie a quello che le organizzazioni riescono a svolgere ad esempio entrando in contatto radio e osservando come i dispositivi si muovono e come contestualmente partono o non partono le navi libiche nell'intercettare i naufraghi. Quindi questo è stato possibile già ricostruirlo e di questo diamo conto e diamo conto anche di una fornitura in particolare del Ministero dell'Interno, tra l'altro giudicata da Leonardo Giaffi Meccanica, il cui principale azionista siamo noi attraverso il Ministero dell'Economia, delle Finanze, Cassa, Depositi e Prestiti, una fornitura per il noleggio di un anno di un drone da dare a disposizione di Frontex per il pattugliamento del Mediterraneo dal valore di 7,2 milioni di Euro, una fornitura del 2021 che è stata giudicata lo scorso anno e che è stata portata avanti dalla Direzione Centrale Immigrazione e Polizia fra delle frontiere. Quindi come dire, il legame, la collaborazione è davvero direi palese e questo abbiamo raccontato. So se Luca... Sì, aggiungo solo, nell'aprile del 2021 Helder Spieger che appunto ha rivelato come l'agenzia Frontex inviava tramite WhatsApp le coordinate delle barche in pericolo alle autorità, le cosiddette autorità libiche. La deputata olandese Strick, che è una delle poche che nel Parlamento europeo chiede chiarezza su queste operazioni nel febbraio 2022, ha chiesto conto all'agenzia di quanto questi rapporti fossero sistematici o sporadici. Frontex, raccontiamo nel libro che un altro grosso problema è la mancata trasparenza dell'agenzia nelle sue operazioni. Frontex ha risposto alla deputata che 119 documenti ricadevano nella sua richiesta, quindi di fatto 119 contatti diciamo così tra la Guardia Costiera e Frontex, ma che non c'era un interesse pubblico per fornire questi documenti alla deputata e che il fornire tale informazione avrebbe messo in pericolo nuovamente l'ordine pubblico e la gestione insomma dei rapporti internazionali, che è un altro elemento che torna sia a livello europeo che a livello italiano per negare la trasparenza rispetto a queste operazioni. Quindi diciamo che non possiamo dire che sono sistematici, ma che comunque di fronte a una richiesta almeno 119 documenti operativi riguardavano i contratti tra l'agenzia e le autorità libiche. A questo proposito poi dobbiamo concludere, però sempre appunto per irrobustire questa lettura nel libro diamo conto e anche per sottolineare il fatto che Frontex è certamente un attore primario, ma non è l'unico, diamo conto di una fornitura tutta italiana in mano alla Marina Militare, incaricata dal Ministero dell'Interno, che lo scorso anno si è tradotta nella consegna attraverso la nave San Giorgio di un centro di coordinamento mobile dei soccorsi cosiddetto, per coordinare le operazioni di fatto di intercettamento e di respingimento. Una fornitura da un milione di euro poi è stata assegnata a 800 mila, che è stata portata avanti da un'azienda di tre puzzi in provincia di Lecce e che ha previsto anche la fornitura di un container di 10 per svolgere questa mansione. Questo container recita il disciplinare di gara, doveva essere adibito a parlare con un radar presente nella base navale libica di Abusitta. Questo radar è stato prodotto da un'azienda italiana che si chiama Gem il sistema elettronica e questo ha conferma della centralità della tecnologia nell'intercettamento delle persone. E concludo, perché anche questo ha molta importanza dirlo in questa sede, che una parte della strategia, giustamente Luca Rondi sottolineava la caratteristica di polizia per negare l'accesso, a proposito di quel che diceva Schiavone, perché si nega l'accesso al diritto d'asilo e si nega anche l'accesso alle informazioni. Vorrei su questo stimolare l'attenzione rispetto alla Guardia Costiera italiana, perché abbiamo un grosso problema di accesso ai dati da qualche tempo anche nei confronti dell'operato della Guardia Costiera. Cito un esempio che può sembrare banale, ma dall'inizio di quest'anno la Guardia Costiera ha rimosso dal proprio sito tutti i dati relativi alle operazioni di ricerca e soccorso condotte negli anni. Li ha rimossi. Alla domanda perché li avete rimossi è stato risposto, stiamo aggiornando il sito, sono passati tre mesi, o il tecnico è molto lento o c'è un evidente imbarazzo nel voler sottrarre i dati dove per certi anni si chiamavano fortunatamente le persone soccorse persone soccorse e dal 2019 abbiamo iniziato a chiamarli migranti irregolari intercettati nel corso di operazioni di polizia. Più volte ne abbiamo scritto su Altra Economia, si è deciso di togliere tutti i dati e di sottrarli all'opinione pubblica. Credo che anche questa pagina sia abbastanza triste e vada raccontata e possibilmente riscritta. Ora sono le 15.02. C'era una domanda. Vuoi fare una domanda molto semplice. Questo comportamento di Frontex, avete appurato che è sicuramente dovuto a motivi politici, indotti, respirati, suggeriti, eccetera, o anche interessi materiali di chi gestisce Frontex? Sicuramente la gestione Leggeri aveva delle problematicità anche interne, lui è di fatto accusato per aver utilizzato indebitamente dei fondi dell'agenzia, ci sono delle denunce di molestie, quindi c'è sicuramente la problematizzazione di una leadership che in qualche modo in questi anni è stata negativa. Come raccontavo prima però, è chiaro che nel momento in cui l'attività dell'agenzia non viene messa in discussione dalle stesse istituzioni europee, in frontiere, in situazioni in cui le violazioni dei diritti sono sistematici, la volontà, diciamo, la finalità politica di far restare Frontex su un territorio o non farlo restare, è chiaro che c'è, perché in qualche modo se le evidenze ti dicono che quello che sta succedendo è sistematico e non è sporadico, allora la volontà di far restare lì gli agenti di Frontex che rappresentano l'Unione Europea, sono le divise che su quei confini rappresentano l'Unione Europea, in qualche modo vuol dire mettere un bollino su quelle pratiche e avallarle dichiarando di fatto che poi non si è così contrari se le persone vengono respinte e non accedono al territorio europeo. È veramente fondamentale unire la strategia di confinamento a ridosso delle frontiere, un po' anche per come si sta immaginando il patto, ma unirla a una strategia che in Italia noi ci arriviamo tardi rispetto ai paesi europei, che è quello della normativa come pregiudizio nei confronti di chi non merita il diritto di asilo. Questa cosa è fondamentale perché anche all'interno delle inchieste del mondo dell'attivismo e di quei percorsi che tentano di costruire resistenza e cambiamento, in realtà tutte quelle prassi che vengono inquadrate all'interno del sistema Italia come accesso e garanzia del diritto d'asilo vengono inquadrate all'interno di prassi, invece sono giustificate assolutamente da normative nazionali, direttive europee che noi abbiamo elaborato, come il principio del pregiudizio per il quale esiste la lista dei paesi sicuri, la procedura accelerata. Questi sono tutti sistemi di respingimento interno che vanno assolutamente equiparati e in questo libro secondo me anche la presenza di Cristina e Gianfranco che in qualche modo insieme agli altri avvocati costruiscono questo punto di vista è fondamentale convincere l'opinione pubblica che esiste un problema anche italiano in questo senso, anche se ci arriviamo tardi rispetto agli altri paesi europei, però ci stiamo arrivando straordinariamente. Grazie anche per questa aggiunta, il libro è ricco anche sotto questo profilo e io ringrazio nuovamente Cristina Molfetta, Gianfranco Schiavone, Luca Rondi e tutti voi per essere intervenuti e intervenuti, chi ci ha seguito da casa e l'invito è di far circolare il più possibile respinti le sporche frontiere d'Europa dalle Balcani al Mediterraneo edito da altre economie. Grazie ancora.